We Undeniable Salve a tutti ragazzi, qui TtD e benvenuti in questo nuovo video di Watch Dogs 2 Andiamo a completare la missione con cui ci siamo lasciati l'ultima volta Intanto quella macchina da polizia ha fatto un incidente, ha ammazzato due persone Vai così polizia, sempre utili Ok, rubiamo sta moto Ehi! Ma, no, 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 che c'è la polizia, va Meglio che, meglio che sto attento Vabbè ragazzi, andiamo, andiamo al punto di ritrovo Eccoci arrivati ragazzi, eccoci arrivati Cerco di non ammazzare qualcuno, ma ci siamo, ci siamo finalmente Andiamo a sentire cosa, cosa vuole Ciao Eh, ok Ah, è un trans, ok Ok Wow Uno scambio ecco Uh, no, 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 no Ehm, no. Ok. Va bene. Va bene, ragazzi. Entriamo e vediamo cosa succede lì dentro. Facciamoci due risate all'incirca. Sì. Ok. Già c'è della sicurezza, quindi ormai sappiamo com'è la storia, eh, ragazzi. Sicurezza in sto gioco è una macchina di morte. Vieni qua. L'unica pecca è che, come ho anche già detto, non si possono muovere i cadaveri. È veramente pesante come roba, eh, ragazzi. Oh, no, 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 no. Ok. Speriamo che non becchino niente. Vabbè, gente che fa yoga, chi se ne frega. Là però c'è qualcosa Ok, una moto Vabbè, carina Porca puttana Ok, questo è andato Non so se ha avvertito qualcuno Ma, vabbè Porca puttana, sei perso cosa? Cazzo parli, chi ha parlato? Ok, là Là un nemico Qui hackerare, qua hackerare Ciao Vabbè, che non è niente Tranquillo Vabbè, punti interrogativi Amen Amen Chi se ne frega Torniamo con le telecamere Che ci stavano dando un po' una mano Lì? Money, grazie per i 700 dollari Però non ho ancora capito Come arrivare Forse con questa? Raccogli, non mi interessa Questa telecamera Dove porta? Uh, salve Eh, no Ok, mi sa che è arrivato il tempo Di tirare fuori Il nostro fantastico drone Che funziona una volta Sì, 10 no Vieni quadrone Andiamo Ripeto Appena ho La possibilità Upgrade A quello volante Quello volante perché È anche più figo E mi sa che fa le stesse cose Ma vola Quindi è Migliore Spero, eh Poi lo scopriamo Eh, ovviamente Salta, eh Sì Ma da dove mi hanno visto? Cioè Oh Ciao Addio Non posso mica stordire Vero? Ricarica botnet No, non va bene Dovrei metterci dei cazzo Di armamenti qua dentro In questo Drone Perché per ora È veramente inutile Cazzo La 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 Non è successo niente qua No Non venire a trovare il mio drone Non c'è niente Ha ha Inculato Non c'è niente qua Vattene via Madonna Ma però Vabbè Lì però c'è una telecamera Forse da qua Possiamo fare qualcosa Vediamo Ok L1 E Gira qua Ha fatto casino Ma Torna indietro Boom Che figata Ok Tu sei andato Agente a terra Ma è successo un incidente Capita eh No ragazzi Capita Capitano gli incidenti sul lavoro Non dovrebbero capitare ma Vabbè E' ok Adesso arriva qui eh Devo fare attenzione Muori Ok Questo è andato Cosa c'è da raccogliere qua Che è verde Vediamo un po' Raccogliamo Struttura New Dawn Dati chiave Ok E la dei soldi Eh vabbè Li prendiamo Ok Moneta antica Vabbè Non so cosa serve Chi ha parlato Chi deve morire Ragazzi Lo voglio sapere No Oh Oh ragazzi Ok Devo fare attenzione Ma è Qua c'è uno eh Bisogna fare Attenzione a questi due qua Tre poi sono in realtà Ok Questo è andato Ok Quell'altro è andato Ragazzi L'ultimo E poi possiamo fare Tutto quello che Vogliamo Cazzo Mi ha beccato Mi sa No Vai È andato Ma vaffanculo Te E spararmi Va a cagare Ok Accheriamo Se ce la facciamo Ah no È dall'altra parte Ok Fatto Ok Dobbiamo rimanere qui Ok Ok E Dove Lì Da lì sopra E io come ci arrivo Non sono Micà un mago Vediamo un po' Vediamo un po' Ragazzi Forse da qua Forse da qua Sì Probabilmente da qua Eh Sì Va bene Certo Certo Marcus Ok Questo no E questo Oh Finalmente la chiave d'accesso Apreti il sesamo Ciao Ok Ok È quello che voglio fare Mamma mia Sei stupido Ah ma gli fanno vedere Tipo Wow Va bene Cos'è successo? Chi ha detto merda? Non vedo nessuno Vabbè E noi andiamocene Facciamo prima ragazzi Wow 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 Troppa merda qua Però abbiamo la moto Eh sì Ragazzi Abbiamo la moto Andiamocene via con questa Ragazzi Sì Dalla spiaggia Wow Sp- Ahiaia Non volevo morire Dai Alzati Marcus Dai che dobbiamo scappare Dov'è la moto? Eccola qui Dai Dai Allora E prendi sta cazzo di moto Finalmente Oddio Non ti ammazzare Grazie Oh Aiuto Ok Non è GTA È questo State attenti a fare queste cose Se ci state giocando Va bene Missione completata Ok Sentiamo la chiamata Miranda Ok Va bene Ok 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 Alle reliquie Cosa mi significa Va bene Però Però mi sa troppo di Come dire Levati camioncino Ciao È una figata sta roba Comunque Mi sa troppo di Mmm Nah Sono sicuro che c'è una trappola sotto Ragazzi Ma sicuro proprio Andiamo a vedere No 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 Chiuditi Apriti mappa Oh Finalmente Andiamo a fare sta missione Eccola qua Corse con la moto da cross E cosa mi interessa a me Delle corse con la moto da cross Sinceramente Andiamo a vedere Inizio missione Ok Wow Eh sì In incognito Ok Ferite aperte 3 Ok Eh E pare Pare di sì Ok 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 Antico e tavolette di pietra sumere Wow Mamma mia Ok Va bene E beh Oh attenzione M'ammazzo No ce l'ho quasi fatta dai Perfetto facciamo così che è più veloce Anche se è una merda la guida Perché è da dirlo Fa un po' cagare Funziona con le moto Allora qua io come entro Tranquillamente così Salve c'è qualcuno a casa Vabbè anche se c'è io entro Va bene Ok Entriamo ragazzi Facciamo Facciamo con calma Facciamo con calma Ma facciamolo Ok Due guardie Ok Via col cellulare Vediamo se ce la faccio Sì Sì ce l'ho fatta ragazzi Ce l'ho fatta Mamma mia Oh Ok Controlliamo Controlliamo che Non ci siano guardie Tranne le persone Vabbè Le persone amen Salve Facciamoli Facciamoli fare le cose brutte Oh Cazzo Un'altra guardia Andiamo ragazzi È il nostro momento Con calma Ciao Andiamo anche dall'altra Andiamo anche dall'altra Ora è il nostro momento Da dietro Sì C'è qualcuno Ciao ciao Buonanotte Perfetto Ce l'abbiamo fatta Allora Vediamo un po' Qua Cosa c'è Ah ma è sotto Vabbè Niente Dobbiamo riuscire però Ad entrare E quello è un problema Perché Oh no Invece C'è la telecamera Bisogna solo Capire Dove Dove c'è Il Il coso da hackerare Cioè è bruttissimo da dire ma Può chiamare i rinforzi E a me che me frega Vediamo da qui Oh Hacker Ma è No Non va bene qui Raccogli Telecamera qui Tanto lo so che adesso Eh no Questo non va bene Io lo so che adesso Arriva qualcuno da dietro E io Mi inculano praticamente Lo so già che succede Devo stare un po' Un po' attento Diciamo Allora Intanto Come le abbatto Queste due guardie Senza farmi Vedere Passiamo così Alla larga E vediamo un po' Devo entrare Là dentro Ed è un po' Complicato però Forse un modo c'è però Forse un modo c'è Vediamo un po' eh Devo andare qua no Sì Ed è aperto Con calma Corpo corpo Ciao ciao Aia Apriamo Oh Finalmente abbiamo La chiave d'accesso Possiamo farci I cazzi nostri Fondamentalmente Questi però Non possono ancora Eh vabbè Allora Proviamo con le porte D'ingresso Visto che lì Le ho già storditi Da che mo' Ok Andiamo Dentro non c'è niente Vero? No Non c'è niente Perfetto Akera Per attivare Ok Devo arrivare qui E hackerare Aia Oh Cazzo Mi vedono Eh ma da dove Lo Lo hackero? Completa il bypass Della rete Per sbloccare Oh Cazzo L'hanno Li hanno beccati Vero? Ok Devo stare Veramente attento Devo stare attento Ragazzi Devo stare Veramente attento Mi sa che Ha anche risvegliato L'altro tizio Quindi ora Sono nella merda Vabbè Andiamo a stordire E poi Occupiamoci Dei Dei problemi Oh Aiuto 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 Salta per favore Grandissimo Arrenditi Ciao Boom Addio No Sparato Ma quale Descrizione Del bersaglio Pronta a partire Che minchia Dici Ok Scomparso Boh Non posso Non più Far niente Ragazzi È tutto È tutto Per noi Praticamente Trova Le tavole Sumere Ok Ma Devo completare Il bypass Ma Vabbè Proviamo così Andiamo sotto Ok Là c'è qualcosa Però Non mi fa Far niente Ok Facciamo così Qua Apriamo Ok Vabbè Non è servito Molto Non riesco a capire Come Come Sbloccarlo Quello è un problema Diciamo Questo è un problema Bello e grosso Devo per forza Capire come fare Allora Qua c'è Qua c'è Il punto qua Poi là C'è un altro Vediamo anche Se da Qua sotto C'è qualcos'altro Andiamo a vedere Non si sa mai Che forse è da qua sotto Che bisogna Bisogna iniziare Verniciatura per veicolo Vabbè Non credo che ci interessa Più di tanto La verniciatura Sinceramente Ok Dollari là Quello Non serve Però 30 metri E qua In compenso Però Sono già morti tutti Però È qua sopra E come ci salvo io Vediamo un po' No Questa telecamera Non mi serve a niente Devo trovare Ah ecco le scale Ecco le scale Va bene Ho trovato Ok Girati E quello lì Come lo apro? Ok Ah Mi sa che devo Ok Ok Così non va bene Ok Un attimo Eh Facciamo Eh ma questo non può Non ha molto senso Però eh Vabbè Scendiamo Scendiamo Che si vede meglio Da lì ragazzi Mamma mia Sti Sti enigmi Sono sempre odiosissimi Li odio In tutti i giochi Così sinceramente Allora Perché tu non puoi Dare la corrente O il flusso D'energia Ok Così la dai Così 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 Eh ma qua Non la da più Ah Ecco fatto Ok Andato Questo è andato Ragazzi Va bene Facciamo questo Allora Abbiamo l'energia Da qua Eh però Ah 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 Ok Qua Proviamo a cambiarlo No eh Questo è libero Ok Finalmente Cambiamo questo Ed è andato Questo qua Si è liberato Perfetto Uno l'abbiamo fatto Ora facciamo gli altri Ok Facciamo così Questo è libero E anche questo è libero Perfetto E ok Manca questo qua Ragazzi Allora Vediamo un po' Allora Partiamo così Tu Devi stare per forza così Tu invece Ti giri così E poi Te Ti Rigiri In questo modo Fatto Perfetto Apriamo anche questo E apriamo l'ultimo Rete interna Sbloccata Finalmente Akra per attivare Wow Deve essere L'ascensore di Jim Ok Wow Ascensore segreto Sbloccato Non posso credere Che No dai Ragazzi Ma che cazzo Cioè questo non è Un culto Dai Benvenuto Il quinto livello Il quinto livello Di New Dawn E complimenti Per la tua Ascesa spirituale Ok Se ne sei sicuro Grazie Ho dato il massimo Ok vediamo un po' Do not touch Akra per ottenere Per ottenere l'accesso La seconda tavola Definisce il magnetismo Ben prima Che William Gilbert Osservasse il fenomeno Con falsi metodi Scientifici Ok Già sapevano State ammirando I sorprendenti tesori Della New Dawn Wow Le basi della loro Cosiddetta religione File e file Di antiche tavole sumere Qui è pieno Di cazzate simili Ma queste Queste Sono qualcosa Di speciale Perché non sono Nei musei Cioè Chi dà il diritto Alla chiesa Di tenerle nascoste Al mondo E' ora di scoprirla Ok No c'è scritto Di non toccare Ma Ehi Io voglio proprio farlo Solo un pochino E dai Sono così Piene di storia E sono felice Di far parte Di una cosa Così Oh no 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 Sono tutte false Ma che stronzata I fedeli Della New Dawn Pagano milioni Di dollari Per poter vedere Queste cose E sono false Proprio come Tutte le promesse Di questa chiesa Ecco Sì Ora sto meglio Vieni qui Ok Va bene Perfetto La religione Dei cazzoni Ragazzi Ricordatevi Se volete creare Una religione Anche voi Fate come questa qua Perché sono Dei propri Cazzoni Avanti Guardate La New Dawn Il Red Sec Ha deciso di indagare Sulla chiesa Di New Dawn E ha scoperto Crimini E corruzione Hanno acquistato Grandi quantità di dati Per colpire I loro nemici Potrebbero avere file Anche su di voi Diffonderemo I documenti indicati Attraverso i soliti Canali Leggete Verificate Giungerete Alla nostra Stessa conclusione La New Dawn È un'organizzazione Criminale Che intimidisce I suoi membri Distruggendo Le loro vite E rubando Il loro denaro Non credete Sulla parola C'è un ospite Illustre Ciao Sono Jimmy Siska Forse vi ricordate Di me Per qualche buon film Girando prima Che la New Dawn Mi facesse Il lavaggio Del cervello Quando i miei nemici Criticavano I metodi crudeli Della chiesa Sparivano Quando ho fatto Domande Mi hanno sequestrato Rinchiuso Contro la mia volontà Adesso La polizia Sta indagando Sulla mia denuncia Ma che cos'è Questa chiesa Che c'è dietro La porta numero 5 Lascio che a svelarlo Siano gli amici Del Densec Il Densec Vi ha detto La verità Ora Tocca A voi Dai ragazzi Siete benvenuti Cazzo Ok Wow Bello il video E come scappiamo ora? Così? Più che altro Bella anche la canzone Ragazzi Ci sta molto Vabbè Noi scappiamo Ragazzi Alla Proprio Alla cosiddetta Cazzo di cane Usciamo dalla porta principale Da dove siamo entrati Perché è molto intelligente Da fare come cosa È molto intelligente Soprattutto c'è ancora La nostra moto Ciao ciao Io scappo Stato bello conoscervi New Dawn Missione completata Perfetto Va bene ragazzi Per questo episodio Di Watch Dogs 2 È tutto Io spero che il video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate E iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti